E adesso andiamo a vedere che cosa è successo nel tardo pomeriggio di oggi nella zona della liscia a Fano. I vigili del fuoco sono intervenuti nel locale Pizza e Capricci in via Gandiglio per un incendio innescato da un cortocircuito alla ventola del forno che ha provocato un surriscaldamento. I pompieri di Fano e Pesaro sul posto con tre mezzi, compresa l'autoscala, hanno evacuato l'intera palazzina per eseguire tutti gli accertamenti del caso. Non si registrano feriti. I residenti sono rientrati nelle proprie abitazioni poco prima delle ore 20. Sul posto anche la pulizia locale. Grazie. Grazie.